Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi voglio portare un video per la festa di San Valentino. Domani sarà infatti il 14 di febbraio e voglio suggerirvi 10 titoli da leggere in onore di questa festa. Ho inoltre cercato di fare una cosa diversa dal solito. Potevo benissimo suggerirvi titoli di amori bellissimi, convenzionali e quant'altro, ma stavolta ho voluto fare una cosa diversa, una cosa più trasgressiva e provare a suggerirvi 10 titoli di amori non convenzionali. Quegli amori un po' strani, un po' particolari, amori a volte magari anche sbagliati per darvi delle storie un po' più originali rispetto alla solita storia d'amore classica e farvi passare appunto un San Valentino diverso. Prima di cominciare come sempre faccio le solite premesse, vi invito ad iscrivervi al canale, ogni martedì ed ogni venerdì trovate sempre un nuovo video pronto ad aspettarvi qui su YouTube. Se vi iscrivete anche ai social, inoltre avrete aggiornamenti in tempo reale su letture e non solo. I libri che vi menziono oggi e che vi compareranno a video li trovate linkati giù in infobox, sono link affiliati, quindi se per caso avete intenzione di comprare qualcuno di questi libri, se lo fate attraverso i miei link aiuterete economicamente il canale perché una piccola percentuale del vostro ordine andrà a sponsorizzare il canale. Voi ovviamente non dovete pagare niente in più. Ci sono vari modi tra l'altro per sostenere il canale, li conosciamo già, la wishlist del canale, i super grazie, insomma quindi c'è un mondo nel caso aveste voglia di sostenere me e il canale. Direi di partire subito, sono appunto dieci i titoli che vi voglio suggerire, ve ne parlo velocemente e vi dico appunto qual è la peculiarità di questi romanzi. Il primo a cui ho pensato è stato proprio Cime Tempestose di Emily Bronti, libro che vabbè per chi mi segue sa che ho amato e odiato per vari motivi, ma ve lo consiglio perché? Perché questo amore qui è un amore secondo me non convenzionale in quanto amore puramente ossessivo. Io l'ho definito proprio un amore tossico perché appunto l'amore che c'è tra Catherine e Heathcliff è un amore che genera odio, sofferenza, che genera dolore anche agli altri, porta molto dolore, molta infelicità anche alle persone che li circondano ed è appunto una storia di ossessione, di vendetta completamente ingiustificata. Tutto l'odio che c'è all'interno di questo libro io l'ho trovato completamente ingiustificato e sebbene questo romanzo sia molto amato, io l'ho trovato abbastanza raccapricciante proprio per questa cosa qui, per questo amore così poco sano, e però al tempo stesso affascinante proprio perché è un'autrice che in maniera anche rivoluzionaria racconta un amore che non è proprio quello che ti raccontano nelle favole, l'amore illiaco del per sempre felice e contenti. E quindi questo è un libro che secondo me potrebbe interessare a chi magari non ha voglia di miele e zucchero. Altro amore non convenzionale, questo forse è un po' borderline, ma voglio comunque inserirlo all'interno di questa classifica, è sicuramente Lolita di Vladimir Nabokov. Qui abbiamo un amore completamente sbagliato, oserei dire, perché purtroppo si parla di un pedofilo, un uomo di 40 anni o anche più, che si innamora di una ragazzina di appena 12 anni, mi pare, 11-12 anni, ovvero Lolita. E noi veniamo a scoprire la storia di lui che fraternizza con la madre di lei solo per lo scopo di potersi appunto accaparrare Lolita e portarsela via e vivere quella che secondo lui è un'idillia che ha storia d'amore. Vediamo un'analisi del personaggio in cui comunque vediamo il nostro Amberthambert, che è il nome del nostro protagonista, come vede le cosiddette ninfette, quelle ragazzine tra i 8 e i 14 anni che hanno un fascino tutto loro. Insomma, vediamo il mondo interiore di quest'uomo e quest'amore completamente malato visto dal suo punto di vista. Un libro che ovviamente suggerisco non tanto per l'aspetto romantico, che di romantico non ha nulla, ma per la parte affascinante e soprattutto perché, a parte il fatto che è un romanzo anche questo molto rivoluzionario, ma soprattutto scioccante per l'epoca in cui è stato scritto, ma è anche appunto un libro che vi mostra un po' come potrebbe pensare una persona che purtroppo è affetto da questa parafilia e fa parte ovviamente della letteratura classica. Il terzo tipo di amore non convenzionale che vi voglio suggerire è racchiuso nel libro Genie la matta di Ines Cagnati. È un libro che a me è stato particolarmente antipatico, però nel complesso comunque non mi è dispiaciuto. E perché dico un amore non convenzionale? Perché qui abbiamo l'amore incondizionato di una bimba, di una bambina, nei confronti della sua mamma, una madre che però è completamente anaffettiva nei suoi confronti. Vediamo questo amore idilliaco, questo amore così indissolubile, così incondizionato di questa creatura nei confronti della madre, nonostante non riceva dalla madre mai un sorriso, mai un'attenzione, mai una parola dolce, questa bambina continua imperterrita ad amare questa madre, a venerare questa madre, a parlare di lei, a sognare di vivere felice insieme. Insomma, è un libro molto doloroso da questo punto di vista, se ci si mette in medesima in questa bambina, e che appunto vi mostra il mondo interiore di una bimba di appena 5-6 anni, se non ricordo male. Ed è un libricino che effettivamente lascia il suo segno, comunque vi fa empatizzare molto con questa bambina, vi fa capire, vi fa scoprire quanto amore può contenere una creatura così piccolina. Continuiamo con i nostri amori non convenzionali e in questo caso vi voglio suggerire un romanzo di Massimo Bontempelli, ovvero Il figlio di due madri. Capovolgiamo, diciamo, rispetto a prima la tematica, e in questo caso a dare amore incondizionato è una madre, anzi due. Ed è un amore non convenzionale, perché in questo caso la madre in questione è una madre che deve condividere l'amore per il figlio con un'altra madre. Infatti la trama di questo libro parla proprio di questo, di questo bambino che a un certo punto entra in una sorta di trance e una volta risvegliato da questa specie di trance dice alla madre, mi scusi, mi può riportare a casa? Io non mi trovo a casa mia, lei non è la mia mamma. E questa donna, nell'atto di sperare che il bambino si riprenda dopo giorni a ripetere questa cantilena, lo porta effettivamente dove dice di abitare ed effettivamente nella casa in cui la conduce trova qualcuno ad aspettarlo, trova dei giochi che lui riconosce, trova delle foto di questo bambino e quindi si ritrova appunto con il proprio figlio che si riconosce in un'altra famiglia che effettivamente sembra avere un'altra famiglia e che quindi non sa più che cosa pensare. Si ritrova quindi a dover condividere il suo figlio con quest'altra donna che si professa essere sua madre e insomma il resto dovete scoprirlo voi. Un libro bellissimo che io ho amato tanto e che proprio dà un'importanza incredibile e una rappresentazione bellissima della maternità e soprattutto dell'amore materno, dell'amore nei confronti di un figlio ed è appunto non convenzionale proprio per questo motivo qua perché in questo caso l'amore materno, quello conosciuto come l'amore più grande di tutto, in questo caso viene messo a dura prova e soprattutto viene condiviso con un'altra madre ed è secondo me un libro meraviglioso che mi ha proprio colpita. Sempre parlando di amori non convenzionali, in questo caso vi consiglio una graphic novel che vi ho consigliato spesso e anche in questo caso lo farò, ovvero Zanne. L'autrice non me la ricordo già più, comunque vi lascerò la copertina così saprete di quale sto parlando e in questo caso come amore non convenzionale parliamo di un amore tra specie diverse perché i protagonisti sono quelli che vengono per antonomasia definiti nemici naturali ovvero una vampira e un lupo mannaro creature che generalmente sono sempre ritratte come creature che si combattono dai tempi antichi in questo fumetto invece vengono ritratti in una storia d'amore bellissimo, io ho amato questo fumetto è pieno di scene troppo carine, troppo divertenti soprattutto che veramente vi strappano un sorriso e soprattutto anche le coppie stesse ci si ritroveranno tanto in queste piccole bignette perché sono comunque scene di vita quotidiana e non solo continuiamo con i nostri amori non convenzionali e adesso si parla di amore nella terza età perché sì, nei racconti classici non troviamo mai protagonisti che siano più vecchi della canonica età da marito ma anche nella terza età vivere l'amore si può e un libro che urla questa cosa è sicuramente Le nostre anime di notte di Kent Aruf libro che io ho amato tantissimo che suggerirei sempre fino allo sfinimento perché è un libro meraviglioso e che voglio suggerirvi anche oggi abbiamo due protagonisti anziani che decidono che la sera vogliono dormire insieme per tenersi compagnia, per far fronte alla solitudine infatti entrambi sono vedovi lei e lui sono vedovi e durante queste notti si raccontano la loro vita si raccontano il loro passato o si conoscono meglio finché forse qualcosa sboccerà e noi vedremo un po' lo sbocciare di questo piccolo amore tanto tanto tenero a mio parere continuiamo poi con un altro amore non convenzionale e rientriamo nella categoria degli amori proibiti e qui non potevo far a meno di inserire uno dei miei amori proibiti preferiti in assoluto che non perdo mai occasione di suggerirvi ovvero Uccelli di rovo di Colleen McCullough perché? ovviamente praticamente la maggior parte di voi conosce la trama di questo libro abbiamo Maggie una ragazzina appartenente alla famiglia Cleary che si è trasferita dall'Olanda all'Australia nel ranch della sorella del padre all'interno di questo ranch spesso e volentieri passa a dare una mano padre Ralph il parroco del paese un giovane bellissimo parroco del paese di cui ovviamente Maggie si innamorerà ma è un amore proibito perché appunto lui è un uomo di chiesa e sebbene Maggie sia probabilmente ricambiata questo amore non può nascere perché è un amore proibito appunto proibito dalla società proibito da tutto dalle istituzioni proibito dal mondo stesso e forse anche da Dio insomma l'amore è pur sempre l'amore e vedremo un po' se questo amore è destinato a sbocciare ad appassire o chissà che altro non convenzionale appunto per questo perché è un amore proibito un amore che non dovrebbe esistere e ma di fatto c'è se non l'aveste letto provate a leggerlo perché è veramente emozionante è un libro che ha bisogno dei suoi tempi per essere letto però è veramente emozione pura altro amore non convenzionale a mio parere è Follia di Patrick McGrath perché non convenzionale? perché qua letteralmente si parla di follia e di amore letteralmente folle perché è l'amore tra due persone che sono internate in un istituto di sanità mentale mettiamola così anche se in realtà era un altro modo in cui McGrath l'aveva definito comunque siamo in mezzo a criminali pazzi e pazienti con appunto malattie mentali e la nostra protagonista che viene analizzata dal suo medico è Stella una donna che si innamora di un uomo che si trova lì all'interno di quell'istituto perché è accusato di uxoricidio il loro è un amore travolgente un amore senza eguali un amore pazzesco ma pur sempre un amore non sano perché ovviamente ci sono dei problemi alla base sia da parte dell'uno che da parte dell'altra e quindi insomma noi vediamo questa analisi di questa storia d'amore che però appunto è una storia d'amore che non dovrebbe esistere che è travolgente sì ma non è sana porterà soltanto alla distruzione dei due protagonisti e io ve lo consiglio perché è una storia splendida è molto emozionante un'altra storia d'amore non convenzionale qui forse un pochettino barato ma ne valeva troppo la pena per non inserire questo titolo all'interno della classifica è sicuramente la storia d'amore narrata al contrario e infatti vi voglio suggerire una graphic novel splendida edita da Bao Publishing ovvero nonostante tutto di La Febbre storia meravigliosa che noi conosciamo a partire dalla fine quindi noi conosciamo già da subito come va a finire questa storia e andiamo avanti tornando a ritroso nella storia fino al giorno in cui i nostri protagonisti si incontrano per la prima volta storia meravigliosa con i suoi alti e i suoi bassi che appunto vi fa conoscere bene questi protagonisti nonostante sia appunto ripeto tutto raccontato al contrario e vi fa innamorare piano piano di questi personaggi io l'ho trovata carinissima immagino che se la si legga poi cioè nel giusto ordine magari potrebbe anche perdere di fascino perché secondo me la bellezza di questo fumetto è proprio questa cosa del leggerla al contrario però davvero è una storia tenerissima e bellissima ed è appunto non convenzionale perché per una volta qualcosa viene narrato al contrario l'ultima di questi titoli a cui ho pensato e che vorrei suggerirvi per quanto riguarda San Valentino gli amori non convenzionali è un'altra graphic novel che si intitola Clorofilla anche di questo mi sono dimenticata il nome dell'autore slash autrice però al solito vi lascio la copertina perché non convenzionale? perché qua a differenza appunto dei romanzi d'amore classici si parte da una storia d'amore che ormai sta appassendo la particolarità della trama qual è? la storia comincia da un momento preciso il momento in cui questa coppia si trova in macchina la macchina sbanda e finisce giù sta cadendo giù per un dirupo all'interno di questa macchina c'è una coppia una coppia che è in completa crisi però non è più una coppia stabile non è più una coppia che sta bene è una coppia che ormai veramente sente che il loro amore sta appassendo e durante questa caduta noi rivediamo un po' indietro come è nata la loro storia cos'è che si è incrinato e se per caso appunto c'è ancora qualcosa che si può fare se c'è qualcosa per rimediare ciò che ci chiediamo fin dall'inizio e ovviamente non sto a spoilerarvelo io è ce la faranno i nostri protagonisti? cioè moriranno in quella caduta? o riusciranno a salvarsi? ma soprattutto nel caso riuscissero a salvarsi riusciranno a rimettere insieme i pezzi e ritornare più forti di prima? è una storia che sembra convenzionale ma non lo è proprio per il modo in cui è narrata in questa suspense in questo fermare il tempo per fermarsi a raccontare quello che sta succedendo è non convenzionale per il semplice fatto che appunto non c'è quella classica coppia che si conosceva tutto bene e vissero felici e contenti perché qui il felici e contenti è incerto non si sa, non lo sappiamo fino alla fine e quindi io ho voluto reputarlo quindi un amore non convenzionale bene, questi sono i libri che vi voglio suggerire per questo San Valentino fatemi sapere quali di questi conoscevate quali avete letto, non avete letto vi interessano? insomma, come al solito vi aspetto giù nei commenti io vi auguro un buon San Valentino da romanticona quale sono spero che lo passiate bene che siate da soli che siate insieme a qualcuno che siate felici con voi stessi felici con gli altri con la vostra famiglia insomma, riempite questa giornata d'amore qualunque tipo di amore esso sia insomma, passate una giornata serena l'importante è quello io vi ringrazio per avermi ascoltata vi ricordo che tutti i libri che vi ho menzionato li trovate linkati giù in infobox e vi invito ad iscrivervi al canale e sui social ancora grazie per l'attenzione buone letture e buon San Valentino ciao 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 ciao